ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco epifluxin epifarma srl ultimo aggiornamento 6 novembre 2021 cosa epifluxin confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere epifluxin durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa epifluxin epifluxin ha un farmaco a base del principio attivo legofluxacin emidrato appartenente alla categoria degli antibatterici chinolomici e nello specifico fluoro chinoloni è commercializzato in italia dall'azienda epifarma srl epifluxin può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni epifluxin 500 mg 5 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare epifarma srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo legofluxacin emidrato gruppo terapeutico antibatterici chinolomici forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni epifluxin ha indicato negli adulti nel trattamento delle infezioni riportate di seguito vedere paragrafi 4 4 e 5 1 sinusite batterica acuta esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva inclusa la bronchite polmoniti acquisite in comunità infezioni complicate della cute dei tessuti molli cistite non complicate vedere paragrafo 4 4 per le infezioni sopra menzionate epifluxin deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni ha considerato inadeguato pielonefrite acuta infezioni complicate delle vie urinarie vedere paragrafo 4 4 prostatite batterica cronica inalazione di antracee profilassi dopo l'esposizione e trattamento curativo vedere paragrafo 4 4 epifluxin può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con l'ivo fluxacina per via endovinosa devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali all'uso appropriato degli agenti antibatterici posologia epifluxin compresse viene somministrato uno due volte al giorno il dosaggio dipende dal tipo dalla gravità dell'infezione e dalla sensibilità del patogeno ritenuto causa dell'infezione epifluxin compresse può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con l'ivo fluxacina per via e endovinosa considerata la bioequivalenza delle formulazioni orali e parenterale può essere utilizzato lo stesso dosaggio posologia sono raccomandate le seguenti dosi di epifluxin dosaggio nei pazienti con funzionalità renale normale cale arance della creatinina 50 ml barra min indicazione dosi giornaliere in relazione alla gravità durata del trattamento sinusite batterica acuta 500 mg una volta al giorno 10 a 14 giorni esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva inclusa la bronchite 500 mg una volta al giorno 7 a 10 giorni polmoniti acquisite in comunità 500 mg una o due volte al giorno 7 a 14 giorni pielonefrite 500 mg una volta al giorno 7 a 10 giorni infezioni complicate delle vie urinarie 500 mg una volta al giorno 7 a 14 giorni cistite non complicata 250 mg una volta al giorno 3 giorni prostatite batterica cronica 500 mg una volta al giorno 28 giorni infezioni complicate della cute dei tessuti molli 500 mg una o due volte al giorno 7 a 14 giorni inalazione di entrace 500 mg una volta al giorno 8 settimane popolazioni speciali funzionalità renale compromessa cale arance della creatinina a 0 50 ml barra min dose 250 mg barra 24 h 500 mg barra 24 h 500 mg barra 12 h cale arance della creatinina prima dose 250 mg prima dose 500 mg prima dose 500 mg 50 a 20 ml barra min roots successive 125 mg barra 24 h dosi successive 250 mg barra 24 h does powin donde жизни shifting 250 mg barra 12 h 12 a 19 a 10 ml barra min dose successive 125 mg barra 48 h dosi successive 125 mg barra 24 h dosi successive 125 mg barra 12 h 10 ml barra min in incluse emodialisi e dialisi peritoneale ambulatoriale continua 1 dosi successive 125 mg parra 48 h dosi successive 125 mg parra 24 h dosi successive 125 mg parra 24 h 1 non sono richieste dosi aggiuntive dopo emodialisi o dialisi peritoneale ambulatoriale continua cap pazienti con funzionalità epatica compromessa non ha necessaria alcuna modifica della dose in quanto levo floxacina non viene metabolizzata in quantità rilevanti dal fegato e viene escreta principalmente per via renale pazienti anziani non ha necessaria alcuna modifica della dose negli anziani se non quella imposta da considerazioni sulla funzionalità renale vedere paragrafo 4 4 a euro stendinite e rottura del tendine a euro s e a euro sprolungamento dell'intervallo qt euro s popolazione pediatrica epifluxina controindicato nei bambini e negli adolescenti nel periodo della crescita vedere paragrafo 43 modo di somministrazione le compresse di epifluxin devono essere inghiottite senza masticare con un quantitativo sufficiente di liquido possono essere divise alla linea di frattura per aggiustare la dose si possono assumere le compresse ai pasti o lontano dai pasti si devono prendere le compresse di epifluxin almeno due ore prima o dopo l'assunzione di sali di ferro sali di zinco antiacidi contenenti magnesio alluminio o di danosina solo formulazioni di di danosina contenenti tamponi di alluminio o magnesio e sucro al fatto poichà copyright può venirne ridotto l'assorbimento vedere paragrafo 4 5 controindicazioni l'evofloxalcina compresse non deve essere somministrata a pazienti che abbiano manifestato ipersensibilità all'evofloxalcina o ad altri chinologici o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 a pazienti epilettici a pazienti con anamnesi di affezioni tendine e correlate alla somministrazione di fluoro chinologici a bambini o adolescenti nel periodo della crescita alle donne in gravidanza alle donne che allattano al seno avvertenze speciali e precauzioni di impiego l'uso di l'evofloxalcina deve essere evitato nei pazienti che in passato hanno manifestato reazioni avversi gravi durante l'uso di medicinali contenenti chinoloni o fluoro chinoloni vedere paragrafo 48 il trattamento di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetto di altri medicinali su epifluxin sali di ferro sali di zinco antiacidi contenenti magnesio alluminio di donosina l'assorbimento di levofloxalcina risulta significativamente ridotto quando epifluxin compresse viene somministrato in vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codita.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere epifluxin insieme ad altri farmaci come euro saddamelna euro a euro salozufa euro a euro samiodar compressa euro a euro samiodarone aurobindo a euro a euro samiodarone cloridrato bioindustrial.i.m.euro a euro samiodarone icma a euro a euro samiodarone milana euro a euro samiodarone ratiofarm italia euro a euro samiodarone sanduza euro a euro samiodarone zentiva euro a euro samiodar soluzione uso interno a euro a euro santepsin compressa sospensione a euro a euro santepsin polvere a euro a euro sa scriptina euro a euro sa vi flucox a euro a euro sbifozila euro a euro scalcio più magnesio cloruro bioindustrial.i.m.euro a euro Scannacida Euro, Euro Citrafletta Euro, Euro Citrato Espresso Gabbiani Euro, Euro Scorderone Euro, Euro Scoumadina Euro, Euro Scrinozola Euro, Euro Scromaton Ferro Compresse Efervescenti Euro, Euro Scristalzone Euro, Euro Stegastrile Euro, Euro Stiflucan, Capsula Euro, Euro Stiflucan, Polvere Euro, Euro Stiflucan Stiflucan, Soluzione, Uso Interno Euro, Euro Stiflucan Euro, Euro Stiflucan di Aronearisto a euro, a euro se la zora a euro, a euro se l'elettrolitica bil.manten. Con glucosio bioindustrial.i.m. a euro, a euro se l'elettrolitica bil.manten.i più glucosio monico a euro, a euro se l'elettrolitica bil.manten.i più glucosio baxter a euro, a euro se l'elettrolitica bil.manten.i più glucosio galenica senese a euro, a euro se l'elettrolitica bil.manten.i più glucosio salfa a Aeroselectrolitica bil. Reidr. Con glucosio più calc. Gluc. Monico Aeuro, Aeuro-Selectroliticaec.enterica.diaco Aeuro, Aeuro-Selectroliticaec.enterica Fresenius Cb Italia Aeuro, Aeuro-Selectroliticaec.enterica Monico Aeuro, Aeuro-Selectroliticaec.pediatrica Baxter Aeuro, Aeuro-Selectroliticaec.pediatrica Bioindustrial.i.m. Euroselectrolitica ec. Gluconato salfa euro, a euro se elettrolitica reidratante bioindustrial in sol. Per inf. E' un'altra cosa. un argolino a 150 euro a b recorded in cinese 3 in circa 815 10 pesi una spect터� Bioindustriali ma a euro, a euros elettrolitica rent. A euro, a euros flu con a zolo doc generica a euro, a euros flu con a zolo ega a euro, a euros flu con a zolo galenica senese a euro, a euros flu con a zolo icma a euro, a euros flu con a zolo caga a euro, a euros flu con a zolo milano a euro, a euros flu con a zolo ratio farma a euro, a euros flu con a zolo sanduza a euro, a euros flu con a zolo zentiva a euro, a euros flu con a zolo zentiva a euro, a euros flu con a zolo zentiva a euro, a euros flu con a zolo 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 a euro powers a Euro, Euros-fluores a Euro Euro SFM Nuxe Permet compless Euro块um referrime ile a Euro Euro Eux fungos a Euro Euro Eur Rab excess Pana a Euro Euro Gemiflux a Euro, Euro Glurux a Euro Euro cuidado Pero y Euro Eurofo wereактер e Clurochina 2 Euro Euroqime a Euro 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 S Regular Euro 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 Q peso Pinto Euro Euro Yo 5 Euro 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 Nor Iron Euro 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 s mal l'es- grab Euro e a Euro Euro EUROSMA ALOX a euro, a euro sniferex a euro, a euro snutri nel pd4 a euro, a euro speditracea a euro, a euro spicco prepa a euro, a euro splaquenil a euro, a euro spronto ferro a euro, a euro sriflex a euro, a euro sol. Cardioplegica bioindustrial in sol. ADS Thomas I a euro, a euro soluzione cardioplegica galenica senese a euro, a euro soluzione per circolazione extracorporea, S Thomas I, munico a euro, a euro sterofundina a euro, a euro sucralfato arresto a euro, a euro sucralfato doc generica a euro, a euro sucralfina a euro, a euro sucralmal, compressa a euro, a euro sucralmal, granulato a euro, a euro sucrate gel a euro, a euro sustemial a euro, a euro stardifera a euro, a euro stedima a euro, a euro strimicosa a euro, a euro svenofera a euro, a euro svolulite a euro, a euro svilzin, capsula a euro, a euro svinca a euro, a euro stzamizola a euro, a euro sterfuna a euro, a euro stzincumetila euro euro st 5 ossido a foma euro euro st 5 ossido nova argentina 10 per cento un guento euro euro st 5 ossido un guento se la euro euro st 5 ossido un guento z euro euro st 5 solfato idea euro euro st sinerità euro euro solo dera euro eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere epiflux in durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere epiflux in durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza vi sono dati limitati sull'uso di lego flux a cina in donne in gravidanza gli studi di riproduzione sull'animale non hanno evidenziato effetti diretti o indiretti pericolosi di tossicità riproduttiva vedere paragrafo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari alcuni effetti indesiderati di lego flux a cina esempio capogiri barra vertigini sonnolenza e disturbi visivi possono alterare la capacità di concentrazione e di reazione del paziente con conseguente rischio in situazioni dove tali capacità sono di particolare importanza ad esempio durante la guida di automobili e l'uso di macchinari effetti indesiderati le informazioni sono riconducibili a studi clinici effettuati su più di 8.300 pazienti e ad una vasta esperienza post marketing le frequenze nella tabella sono definite secondo la seguente convenzione molto vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio in accordo con gli studi di tossicità sull'animale o con gli studi di farmacologia clinica condotti con dosi superiori alle dosi terapeutiche i sintomi più importanti che si manifestano dopo sovradosaggio acuto con epifluxin compresse sono quelli a livello del sistema nervoso centrale quali confusione capogiri compromissione della coscienza attacchi convulsivi prolungamento dell'intervallo qt e reazioni gastrointestinali quali nausea erosioni della mucosa nell'esperienza dopo la commercializzazione del medicinale sono stati osservati effetti a carico del sistema nervoso centrale inclusi stato confusionale convulsioni allucinazioni e tremore in caso di sovradosaggio si deve praticare il trattamento sintomatico deve essere effettuato un monitoraggio elettrocardiografico per la possibilità di prolungamento dell'intervallo qt gli antiacidi possono essere impiegati per la protezione della mucosa gastrica l'emodialisi inclusa la dialisi peritoneale e la dialisi peritoneale ambulatoriale continua capd non sono efficaci nel rimuovere l'evofluxacina non sono noti antidoti specifici proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antibatterici chinolonici fluoro chinoloni codice atc il lunga 0 1 ma 12 l'evofluxacina ha un antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei fluoro chinolomici ed allenantiomero s del racemo attivo di ufloxacina meccanismo proprietà farmacocinetiche assorbimento somministrata per via orale l'evofluxacina rapidamente e quasi completamente assorbita con una concentrazione al picco plasmatico che si ottiene in 1 2 ore la biodisponibilità assoluta pari al dati preclinici di sicurezza dati non clinici non hanno mostrato alcun pericolo particolare per la specie umana in base a studi convenzionali di tossicità di una dose singola tossicità a dosi ripetute potenziale carcinogenico elenco degli eccipienti epifluxin compresse rivestite con film da 250 mg e da 500 mg contiene i seguenti eccipienti nucleo della compressa crospo vidone ipromellosa cellulosa micro cristallina sodio stiaril fumarato rivestimento ipromellosa titanio di ossido farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di bifluxina base di levo fluxacina emidrato sono agile al gram al van batiflux falè fin da tour caectica le max il levo bat levo fluxacina abc levo fluxacina accord levo fluxacina alter levo fluxacina aurobindo levo fluxacina doc levo fluxacina corca levo fluxacina pensacarma levo fluxacina tecnigenitalia levo fluxacina teva levo fluxacina zentiva levo xacine levo xygram prixar sineflux summa flux tavanic compressa rivestita trissel fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato